Io ci tengo tantissimo a fare complimenti ai miei compagni perché ho trovato, nonostante quello che hanno passato, un gran gruppo, un gruppo veramente unito, un gruppo che ci teneva a fare bene, perché venendo dall'altro girone avevo sotto gli occhi il Catania, per farti capire, no? Che adesso si ritrova, che è la stessa situazione del Teramo, ma si ritrova a fare i play-out, quindi ho trovato un gruppo veramente unito, un gruppo che voleva fare bene, un gruppo che ci ha sempre tenuto nel lavorare bene e cercare di dare il massimo sempre, cosa che abbiamo sempre fatto. Penso di aver dato, ogni partita ho sempre dato tutto, va allo stesso discorso di squadra, poi posso dare, magari in qualche partita può essere di meno, qualche partita è andata meglio, però penso di aver dato sempre tutto. Sono stato anche abbastanza fortunato e sfortunato perché comunque potevo a livello realizzativo magari fare anche un altro gol. Negli anni scorsi mi è capitato di fare sempre il play basso, quindi difficilmente ti avvicini alla porta, però mi piace, è una cosa che mi piace, è una cosa che ci provo, mi piace, quindi ripeto, tra virgolette ho stato pure un po' sfortunato perché guarda domenica, guarda magari lo stesso a Benevento dove ho colpito quattro pali o cinque pali, quindi pure lì se mi avessi detto un pochino di fortuna in più, sicuramente avrei fatto qualche gol in più. Poi ripeto, è sempre questione di fortuna fino a un certo punto perché poi di essere comunque un minimo bravo di essere a stare lì in aria o comunque a trovarti in una situazione per poter far gol. Grazie. Grazie.